La trentesima edizione del concorso scolastico bandito dalla consulta europea quest'anno è dedicato all'anniversario della Prima Guerra Mondiale, alle elezioni del Parlamento Europeo del 2014 e all'anno della conciliazione. Il termine per la presentazione dei temi e dei video scade il 20 gennaio 2014. Per la trentesima edizione del concorso Diventiamo Cittadini Europei, che è un concorso orientato per studenti della scuola secondaria, tutti gli studenti piemontesi che decidono di partecipare, vede quest'anno un format decisamente diverso, allargato non solamente nel titolo, perché il titolo è Diventiamo Cittadini Europei per un'Europa più unita, più solidale e più democratica, ma anche nel contenuto vero e proprio, in quanto che si tratterà non solo più della parte riguardante il tema, ma anche un contenuto di carattere multimediale. Gli studenti delle scuole superiori del Piemonte possono partecipare anche ai concorsi di studio banditi, rispettivamente dal Comitato Resistenza e Costituzione sull'8 settembre 1943, la guerra contro i diritti civili, la Shoah, che scade il 14 febbraio 2014, oppure a quello dell'Osservatorio contro l'usura, sull'uso consapevole del denaro, che scade il 18 febbraio 2014. Tutti i bandi di concorso sono scaricabili sul sito internet del Consiglio regionale del Piemonte.